Le parole del neodeputato del PD Umberto Buratti, ospite lunedì mattina, buongiorno con noi, non sono piaciute all'attuale primo cittadino di Forte Remarmi, Bruno Murzi, che ha replicato ai nostri microfoni, intervistato da Paolo Barberi. L'onorevole, già sindaco del Forte per dieci anni, nei nostri studi ha accusato l'amministrazione per il clima di tensione politica che si respira tra maggioranza e opposizione in consiglio. Buratti ha poi rivendicato la paternità di alcuni risultati raggiunti da Murzi in questi primi mesi, come la rotatoria di Via Vico e il famoso progetto Sicurezza, che quest'estate ha portato un robusto rinforzo di vigili urbani grazie a sponsor privati. Il fatto che loro avessero preparato tutti i progetti, compreso quello della sicurezza, evidentemente non sono stati in grado di terminarne uno. Per parlare il Pontile, la BC Motors, la biblioteca per la quale se fosse stato per loro saremmo sempre all'interno di una causa milionaria, non sono stati in grado di rimettere a posto la viabilità, non hanno fatto un parcheggio in dieci anni, comunque è evidente che non sono riusciti ad occuparsi dei problemi importanti. La parte propositiva è stata di Buratti, ma chi ha fatto il progetto Sicurezza primo comune in Italia è stato Forte dei Malmi con la mia amministrazione. Abbiamo cercato i fondi, abbiamo convinto la gente, abbiamo organizzato, abbiamo fatto un mega concorso per prendere i vigili urbani. Ora, non è che tutto questo fosse scritto nelle due righe che Buratti aveva passato al ministro Menniti. Uno scontro a distanza fra il sindaco e l'onorevole di Forte dei Malmi che non alleggerisce il clima in vista dell'incontro formale tra i due, già fissato e poi saltato, è ancora da riconfermare. Lo schema mio è quello di una professione in cui le decisioni vanno prese in 30 secondi, lo schema di Umberto è molto più riflessivo essendo lui un uomo di conti. Evidentemente la sua riflessione a volte porta un po' lungo, quindi porta a non creare il progetto, a seguire a lungo un'idea senza poi essere concludenti.